Benvenuti a tutti su PM Productions, il canale dedicato alla musica, alla produzione musicale e tantissimo altro. Io sono Paolo Motta, produttore musicale, insegnante di musica, polistrumentista, cantante e tante altre cose. E oggi vi voglio parlare di un argomento che viene tirato fuori molto molto spesso, ovvero Home Recording Studio di Registrazione. Vale la pena andare a spendere soldi per uno studio di registrazione? Oppure no? Bene, prima di iniziare però vorrei chiedervi di iscrivervi al canale e mettere la campanellina per seguire tutti gli aggiornamenti e tutti i video che carichiamo costantemente qui su questo canale. Ce ne sono tantissimi già caricati che parlano di produzione musicale, di come utilizzare varie Do, per esempio molto spesso abbiamo fatto Luna Recording System, poi di come migliorarsi sulla chitarra, di come imparare canzoni sulla chitarra, reaction su alcuni dei nostri brani preferiti e anche non preferiti. E quindi insomma ragazzi se vi piacciono questi argomenti e volete seguire il canale vi consiglio vivamente nei meandri di tutta la YouTube di iscrivervi e mettere la campanellina così non vi perdete nessuno dei nostri video. Comunque parliamo di questo argomento di oggi, è bene investire in produzioni fatte in uno studio vero e proprio di registrazione oppure no? Vi racconto un pochino la mia storia. Io ho iniziato a registrare e produrre sostanzialmente come la maggior parte dei produttori, ovvero dentro casa. Ho acquistato una mia piccola scheda udina, piccolina, proprio microscopica, da un centinaio di euro se non ricordo male, per iniziare a capire come si potesse registrare perché sono sempre stato appassionato alla produzione e soprattutto visto che sono nato e cresciuto con i dischi, chiaramente a poter produrre quello di cui ero molto affezionato. E quindi ho iniziato tanti tanti anni fa, ormai penso più di 15, a cercare di capire come si potessero produrre delle registrazioni di qualità. Ovviamente le prime registrazioni facevano veramente schifo, anzi se le trovo ve le faccio sentire volentieri per farvi sentire quanto schifo facevano. E piano piano però ho iniziato a documentarmi, ho iniziato a approfondire, a studiare questo argomento perché mi piaceva veramente tanto, mi interessava tantissimo riuscire a capire come registrare, come poter registrare una batteria vera, come poter registrare una chitarra. Poi io essendo nato e cresciuto con la chitarra in mano, con il pianoforte e tutte queste cose, per me era essenziale riuscire a prendere l'energia vitale di questi strumenti e poterli mettere su un disco, poterli mettere insomma sul computer. E quindi ho continuato, poi chiaramente ho iniziato a investire nella strumentazione perché il vero problema è anche quello, quanto costa la strumentazione professionale per registrare. Purtroppo non è come molti credono che basta una piccola scheda audio e si risolve tutto. Sicuramente con la scheda audio potete entrare con un microfono, con un cavo XLR e entrare con un jack sbilanciato e trasformare il segnale bilanciato e poter registrare la vostra chitarra, ma non è sufficiente per avere delle produzioni di qualità e adesso vi spiego perché. Comunque dicevo, io sono nato e cresciuto un po' con questo concetto dell'home recording, poi l'home recording ha fatto il boom proprio negli ultimi anni 2000, nei primi anni 2000, quindi 2010 fino al giorno d'oggi, che ormai home recording penso che tutti sappiano di cosa si sta parlando. E quindi sono cresciuto un po' con questa scia dell'home recording, delle registrazioni in casa, eccetera. C'è da dire anche che io inizialmente avevo molto spazio per registrare, avevo una batteria in casa, avevo... Poi se volete andare a vedere i video, c'è un video che ho fatto che si chiama Holy Island, di una registrazione di un brano strumentale con la chitarra solista, in cui vedete proprio la stanza in cui stavo. E in questa stanza io potevo registrare appunto una batteria vera, potevo registrare la chitarra con un amplificatore con quattro coni, insomma, chiaramente era una situazione realisticamente diversa per la maggior parte degli italiani, no? Perché comunque in Italia purtroppo lo spazio è leggermente diverso, io appunto poi vengo, sono stato in un altro paese per tanto tempo, che poi magari vi racconterò in un altro momento. Quindi questo mi ha permesso di poter sperimentare con la registrazione in maniera molto sostanziosa. Quello che ho capito piano piano in questo discorso dell'home recording è che sostanzialmente, pezzetto dopo pezzetto, investimento dopo investimento, piano piano ho costruito un vero e proprio studio di registrazione, fino a che è arrivato il momento nei vari studi e negli approfondimenti dell'argomento produzione musicale in cui ti rendi conto che avere uno spazio casalingo dove ci sono un sacco di rumori, dove le persone ti interrompono, dove l'ambiente non è correttamente, diciamo, acusticamente trattato, sono tutte delle cose che inficiano sulle tue produzioni. E quindi ti rendi conto che non basta più avere magari anche una scheda audio decente, ma bisogna fare un salto di qualità. Ovviamente io sono molto legato alla produzione musicale tradizionale, nel senso di registrare strumenti reali, quindi chitarra, violino, perché questi sono gli strumenti che suono, pianoforte, anche il sassofono, la tromba, il basso. Quindi chiaramente per me, per il tipo di musica che faccio, era essenziale avere uno spazio con un'acustica controllata che fosse adeguata per delle registrazioni di qualità. Però questo discorso va anche secondo me, anzi non secondo me, secondo i tecnici del suono, su chi anche fa musica elettronica. È vero che la maggior parte della musica elettronica oggi è digitale, quindi sostanzialmente non avreste neanche bisogno di un ambiente trattato, di microfoni e quant'altro. Però è anche vero che, prima cosa, molta musica elettronica magari richiede anche una voce, quindi una persona che canta. E questa persona che canta, se voi la fate cantare nel salotto oppure nella cameretta vostra, è molto probabile che la cameretta avrà sicuramente delle pareti parallele e quindi ci saranno un sacco di standing waves, quindi onde stazionali. Però questo è il motivo appunto per cui poi necessariamente, anche se voi fate musica elettronica, è probabile che avrete bisogno di un ambiente un po' più trattato. Anche perché, se voi producete musica elettronica, per mixare comunque avrete bisogno di un ambiente trattato in maniera decente. Quindi ho capito sostanzialmente che se volevo fare il salto di qualità e voler produrre in maniera seria, avevo bisogno di produrre in uno studio di registrazione. Ed eccoci qui, oggi in uno studio di registrazione. Vi parlo a voi, da amante dell'home recording, da sostenitore dall'home recording, a dirvi, guardate, che se veramente volete crescere di livello sulle vostre produzioni, purtroppo l'home recording non è la soluzione. Quindi il mio consiglio è, sì, potete fare home recording se vi piace, se volete solo divertire e quant'altro, ma se volete andare a raggiungere, cioè se volete lavorarci sostanzialmente con la produzione, l'unica soluzione per avere delle produzioni di qualità è affidarsi ad uno studio di registrazione. E se volete sapere a quale studio di registrazione, ovviamente noi, no, scherzo, se volete sapere qual è il giusto produttore per voi, vi invito a vedere il video che ho messo prima di questo, ovvero come scegliere un produttore, che vi darà sicuramente qualche consiglio in più sul riflettere, come andare a chiedere e soprattutto come trovare il produttore giusto per voi, perché anche il produttore giusto è un tema molto molto delicato che bisogna affrontare. Non ci sono produttori uguali per tutti, non tutti i produttori sono giusti per tutti gli artisti, quindi questo è un argomento video, anzi metto qua sotto il link, quindi potete andarvelo a vedere tranquillamente. Quindi, sì, sicuramente fare home recording per chi è appassionato può essere una cosa divertente, può essere una cosa ludica, può essere una cosa di cui potete trarre molta soddisfazione, ma se volete veramente essere dei professionisti e lavorare con la musica, lo studio di registrazione è fondamentale. Quindi, se voi volete diventare produttori per la vostra carriera è fondamentale. Se invece voi siete artisti e volete produrre bene, dovete affidarvi assolutamente ad uno studio di registrazione dove si fa produzione seriamente, per tutti i motivi che ho detto prima, la stanza, la professionalità, l'ambiente anche, perché queste cose molto spesso le persone non ci pensano. Quanto è importante anche vivere un ambiente di studio di registrazione. Quindi, questo è il mio consiglio spassionato, poi ovviamente voi traete le vostre conclusioni, vedete anche qual è il vostro percorso, il momento del vostro percorso in cui state, magari avete appena iniziato ad addentrarvi nel mondo della produzione, quindi chiaramente non avete interesse a capire o comunque a spostarvi a fare questo salto di qualità, però invece chi magari è da tempo che produce, magari è un cantautore già navigato, magari invece questo discorso è molto più importante. Come dicevo prima, lo dico da amante dell'home recording, perché anche io amerei avere dentro casa uno spazio dedicato alla produzione per fare produzione, ma purtroppo nella maggior parte dei casi non è possibile. Poi è chiaro, se voi riuscite dentro casa a fare uno studio, però a quel punto è uno studio, quindi non si tratta più di home recording, anche questa cosa, no, bisogna un po' ragionarci sopra. Per questo video è tutto, vi ringrazio per aver visto il video, se siete arrivati alla fine complimenti, congratulazioni, purtroppo non ho il premio per voi, però vi ringrazio tantissimo per il supporto. Sappiate che tutti i commenti, mi piace, le visualizzazioni che fate voi sono tutto un supporto grandissimo che ho dato al canale, quindi vi ringrazio tantissimo, ormai siamo 1300 o più di 1300 iscritti, quindi veramente grazie a tutti gli iscritti e a tutte le persone che seguono assolutamente il canale, vi saluto a tutti calorosamente e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti!